Pantheon in diretta da Montecitorio, l'inviato Matteo Parlato. Buon pomeriggio Matteo. Buon pomeriggio a voi e a tutta la relazione e a tutti i telespettatori della News24. Siamo qui a Piazza Montecitorio, insieme a me come vedete ci stanno i rappresentanti di Popolo Viola ma anche delle altre partiti e formazioni politiche che sono venute qui in piazza per protestare contro questo decreto. Intanto un aggiornamento alle 16.30, la manifestazione si trasferisce al Pantheon e anche il Partito Democratico parteciperà a questa manifestazione con lo slogan Sì alle regole, no ai trucchi. E poi domani manifestazione alle 15 a Piazza Navona e intanto il Popolo Viola sta suonando i suoi tamburi e chiamando la sua gente. Come fate? Gianfranco Mascia ci dica. Facciamo le solite modalità, via sms, via social network, web, via dirette streaming per sopperire, a parte voi che siete fantastici, alle televisioni che non mandano in onda le nostre cose. Una mobilitazione, ieri 150 persone al Quirinale per decretare il funerale della democrazia a causa del fatto che Napolitano ha firmato questo decreto. Chiadalina Zincone, lei è di Sinistra Ecologia e Libertà, qual è la sua opinione su questo decreto? Beh ovviamente anche Sinistra Ecologia e Libertà è contrario a questo decreto, un decreto che comunque da parte del governo ribalta la decisione di un giudice, un decreto che dovrebbe tra l'altro scandalizzare gli stessi elettori del Popolo delle Libertà perché comunque nasconde dei trucchi, dei magheggi, dei giochini che lo stesso Popolo delle Libertà ha fatto e dietro al panino che è stato consumato in realtà c'erano delle doppie liste, c'erano delle truffe, c'erano delle cose che anche gli elettori del Popolo delle Libertà dovrebbero conoscere. Ora la parola al signor Berlino che è De Verdi, un suo commento rapido a questo decreto? Beh allora hanno migliorato un detto barbonico che recita più o meno così, per gli amici c'è tutto, per gli altri c'è la legge, adesso per gli amici tutto e anche la legge, sono andati oltre, hanno barato. Allora, senatore, l'IDV come giudica questo decreto e cosa farete? Beh, un altro capitolo buio del nostro Paese, le regole vanno rispettate, mi sembra aver capito che quando vengono penalizzati loro si fanno questi decreto legge, non solo a due persone, ma contro proprio il Paese. Noi saremo oggi nelle piazze, staremo tutta la settimana nelle piazze fino a concludere con una manifestazione nazionale sabato 13 e io credo che bisogna preoccuparsi perché stiamo veramente davanti a un tentativo di colpe e noi lo dobbiamo impedire. Scusi, senatore Perica, lei aveva parlato pure di andare al culinare? Certo, io andrò anche al Quirinale, cercheremo di fare un giro tondo altra ora al Quirinale per capire e per farci capire appunto dal Capo dello Stato perché ha firmato questo decreto e se lo ha letto. Bene, la piazza Montecitorio è tutto e poi vi daremo nuove informazioni nella piazza del Pantheon quando la manifestazione si trasferirà lì. La linea allo studio. Grazie, grazie a tutti.